in queste ultime ore tra l'altro di campagna elettorale in cui tutti si stanno dicendo tutto mentre stanno facendo le coalizioni organizzando i leader è successa una cosa che in un altro momento della vita italiana avrebbe avuto completamente un percorso diverso cosa è successo vi ricordate il tormentone di tanti mesi fa io sono giorgia su cui poi è nato un meme carino lei diceva sono una mamma sono una donna eccetera eccetera giorgia meloni poi l'ha sfruttato questo meme questo tormentone per farlo diventare addirittura un libro e quindi su questo ci ha costruito un percorso che certamente era un percorso finalizzato poi considerati anche i sondaggi a rivendicare la leadership di un futuro nuovo governo pochi giorni fa una cantante straordinaria con una voce straordinaria che si chiama giorgia come lei ha pensato di pubblicare un meme dove in realtà c'era una parolaccia e c'era scritto anch'io sono giorgia però non rompo i c a nessuno allora cosa è successo è successo tutta la polemica naturalmente polarizzazione della comunicazione si sono divisi in due poli chi appoggiava giorgia chi diceva ma questa cosa è sessista chi diceva questa cosa è di qua questo è di là comunque sostanzialmente giorgia cantante straordinaria che io ho conosciuto tantissimi anni fa quando ancora cantava con il padre in un gruppo che si chiamava io vorrei la pelle nera e devo dire aveva già lì una voce incredibilmente un po acerba ma spettacolare l'ho vista duettare con i grandi cantanti del mondo da lion and rich ad altri sapete perfettamente che canzoni ci ha regalato è un artista che come tutti gli artisti che era ogni tanto decide anche di fare una battuta e questa era una battuta che tutto sommato considerato anche l'omonimia del nome poteva funzionare apriti cielo con giorgia meloni che sapete non le manda a dire ha addirittura usato un grande politically correct perché ha detto giorgia una brava cantante ha una bella voce ma io non avrei mai usato le parolacce e tutto questo fa parte anche di questa campagna elettorale molto social abbiamo detto molto polarizzata dove sostanzialmente non si può più scherzare dove sostanzialmente non si può più ridere dove tutto diventa argomento di scontro dove tutto va ad armare delle bande che sui social si contrappongono anche su delle cose che in altri momenti avrebbero avuto storie diverse forse anche peggiori perché non sappiamo se in un momento in cui giorgia meloni sta facendo capire che atlantista sta facendo capire che può fare il capo del governo quindi è concentrata su questo e sicuramente ha dovuto fare questo messaggio politically correct probabilmente in un altro momento senza questo impegno avrebbe avuto una reazione diversa ma questo non lo possiamo dire con certezza allo stesso tempo giorgia forse se non avesse usato quella parola rompi potrebbe poteva scrivere per esempio come montalbano i cabbasisi e già tutto sarebbe andato in maniera diversa grazie a tutti